L'incendio che ha avvolto tre auto in via Dante non è doloso. Secondo gli inquirenti, i carabinieri della locale stazione, agli ordini del Maggiore Eric Fasolino e dei Vigili del Fuoco di Salerno, le lingue di fuoco che si sono sprigionate alle ore 2.10 della notte di giovedì a Battipaglia, in via Dante e a Richieri, hanno interessato una BMW X5 3.0 diesel del 2003 in uso ad una persona del posto. Le fiamme sono risultate essersi sprigionate dal vano motore, si sono propagate sulle tre vetture parcheggiate accanto ed in uso ai residenti del posto. Completamente distrutte una Fiat Uno del 1992 e una Mercedes G350D, mentre una Renault Clio, ha riportato lievi danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, mentre le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco di Salerno, i quali hanno escluso la natura dolosa. I veicoli non sono stati sottoposti a sequestro. Grazie.